Sono lieto di dare il benvenuto a tutti voi oggi alla nostra conferenza Cappelli al vento, le donne iraniane alla lotta per la libertà. Vorrei rivolgere un saluto particolare ai nostri ospiti dell'Università di Roma, Siena, Bologna e Enna, ma anche ai nostri bossisti e agli alumni della Fondazione Conrad Adon Noah. Grazie per la vostra numerosa partecipazione. Dopo aver trattato in precedenza la guerra in Ucraina e il nuovo governo in Italia, per la terza parte della nostra serie di conferenze, vorremmo avventurarci oltre i confini dell'Europa e guardare agli attuali cambiamenti sociali e politici in Iran. La rivoluzione contro il regime autoritario è portata avanti in particolare da numerose donne iraniane che soffrono particolarmente nelle attuali situazioni di dominio. Oggi vogliamo esplorare come loro e i loro colleghi maschili stiano lottando per i diritti umani, la partecipazione politica e un nuovo Iran. Fortunatamente possiamo contare sul contributo di un esperto tedesco e di uno italiano. Inizialmente avevamo invitato anche una delattrice per parlare dal punto di vista femminile. Purtroppo ha dovuto disdire. Tuttavia, siamo fermamente convinti che ciò non diminuisca la qualità di questa conferenza, poiché la competenza non dipende dal genere, ma da una profonda conoscenza. Ma già da ora vorrei incoraggiare soprattutto le partecipanti femminili a partecipare alla discussione successiva. Infine, vorrei attirare la vostra attenzione sull'ultima parte del nostro ciclo di conferenze. L'11 maggio ci occupiamo del Regno Unito e la crisi della democrazia dal punto di vista odierna. Ora vi auguro di godervi la conferenza e vorrei passare la parola al modellatore di questa serata, il professore Daniele Caviglia. Daniele. Allora, grazie mille direttore, grazie ai nostri relatori che hanno accettato l'invito, il professor Redaelli e il professor Funche. Ringrazio naturalmente i miei colleghi di Siena, Bologna e Roma, con i quali abbiamo collaborato anche a questa iniziativa, all'organizzazione di tutto il ciclo dei seminari. Oggi affrontiamo un tema che sembra non essere più magari sulle prime pagine dei giornali. In realtà è un tema ancora aperto. Probabilmente le forme di protesta si sono solamente trasformate, ma questo non significa che il malcontento nei confronti del regime sia diminuito. Di fatto, poi, se noi guardiamo agli anni più recenti, l'Iran degli Ayatollah era già andato incontro a delle manifestazioni di protesta più o meno diffuse, più o meno violente, negli anni precedenti. Ricordo le manifestazioni del 99, diciamo in seguito alle difficoltà incontrate dal presidente Katami, che era stato eletto, mi pare, due anni prima circa, nel proporre una serie di riforme, piuttosto che le manifestazioni del 2009 seguite all'uccisione di un'altra giovane, Nada Saltan, e che erano contemporanee rispetto ad una rielezione contrastata dell'allora presidente Ahmadinejad. E poi ancora le più recenti proteste del 2019-2020, che, diciamo, avevano probabilmente anche una forte componente di malcontento economico, in quanto si innestavano in una crisi evidente dell'economia iraniana, che aveva portato anche ad un aumento dei prezzi del carburante, che andavano dal 50 al 200%. Quindi questa crisi ha probabilmente più dimensioni. Ha certamente una dimensione di carattere interno, ma anche una dimensione di carattere internazionale, perché l'Iran, come sappiamo, negli ultimi anni ha anche cercato di svolgere un ruolo sempre più pervasivo in una serie di settori più o meno adiacenti, che lo hanno portato ad essere anche, oggi come oggi, un protagonista in qualche modo degli equilibri addirittura mediterranei. E queste proteste ultimamente, quelle che insomma sono diventate eclatanti dopo l'uccisione di Masciamini nel settembre dell'anno passato, sono state portate avanti soprattutto dalle donne. Ed è infatti sulle donne che si concentrerà il fuoco degli interventi dei relatori, ma non solo, perché credo che sia loro intenzione anche quella di mettere in luce la multidimensionalità di questa crisi. Io mi fermo qua per quanto riguarda la mia brevissima introduzione e passo subito a presentarvi il primo dei due relatori, che è il professor Riccardo Redaelli, che insegna, che è professore ordinario di storia e istituzioni dell'Asia, insegna all'Università Cattolica del Sacro Cuore, è anche presidente della nostra società, cioè la Sisi, la Società Italiana di Storia Internazionale, nonché direttore di un master di Middle Eastern Studies, e soprattutto ha, soprattutto lo dico perché unisce rispetto a molti altri, il profilo accademico ad una maturata esperienza sul campo che lo ha portato a collaborare col Ministero degli Affari Esteri in vari programmi di riconciliazione nazionale in giro per il Medio Oriente, in Iraq e anche in Libia. Conosce benissimo anche la realtà dell'Iran, che ha vissuto e frequentato anche per motivi professionali, e quindi sono certo che lui saprà darci una visione anche dall'interno di quello che sta succedendo in un paese così importante per gli equilibri regionali come l'Iran. Prego, professore. Grazie. Grazie a Daniele Caviglia, grazie per l'invito a tutti gli organizzatori. Sì, come uomo europeo, come dire, io non posso pretendere di essere, di riuscire a comprendere perfettamente tutti gli effetti che sulla vita quotidiana, che la repressione del regime provoca sulla popolazione iraniana, soprattutto sulle donne iraniane. e soprattutto il fastidio che le donne, gli uomini, la maggior parte delle donne, gli uomini iraniani provano per un sistema di obblighi e di vieti, proibizioni nella loro vita quotidiana. Tuttavia, come è stato detto, io mi considero soprattutto un fieldwork professor da 35 anni lavoro nel Medio Oriente allargato e anche a lungo in Iran. Amo molto l'Iran. L'Iran non sempre ha amato me, ma queste sono le dinamiche delle storie d'amore. Allora, cercherò di fare il mio meglio. Io credo che sia importante, come dire, inquadrare le proteste in una frame, in un quadro, come dire, non vuole dire olistico, ma più complesso. Partendo da una delle domande che molto spesso colleghi ed amici mi hanno fatto in questi mesi, nei mesi delle proteste. Perché questa ossessione? Perché questa ossessione del regime per il velo delle donne? Perché velare le donne? Perché arrivare a queste forme bruttali di repressione, centinaia di morti, decine di migliaia di arrestati, ragazzi e ragazzi torturati, spesso anche sessualmente abusati. Perché l'ossessione per il velo? Non è un qualcosa, lo diciamo, che riguarda la religione. Non è un problema religioso. E il paradosso dell'Iran, della Repubblica Islamica dell'Iran, è che in realtà ha sempre molto poco a che fare con la religione. Anche che se si parla sempre di Dio, della legge religiosa, di Islam, in Iran le dinamiche sono legate moltissimo al potere e all'ideologia. e il velo è un simbolo, uno dei principali simboli ideologici della rivoluzione. Quindi ha a che fare molto più con l'ideologia e con una rappresentatività del potere più che con la religione. Se posso fare una breve digressione storica. Quando nel 78-79 avviene la rivoluzione, questa è una rivoluzione popolare, è una rivoluzione popolare che diventa una rivoluzione islamica, perché Khomeini è molto bravo a giocare le varie opposizioni allo shawl, una contro l'altra. E' una rivoluzione soprattutto che aveva portato con sé delle aspettative enormi, delle aspettative di cambiamento, di miglioramento, di democrazia fortissime. aspettative che sono state, non voglio dire completamente, ma in gran parte sono state disattese. Oggi non è un mistero che il sostegno dentro il paese per il cosiddetto Nizam, come lo chiamano loro, cioè il sistema di potere. Ecco, il sostegno Nizam è molto basso. Ci sono varie stime, analisi, chi dice un terzo soltanto a popolazione, chi dice di meno. Non possiamo prenderle for granted, non possiamo prenderle per sicure, ma insomma ci danno chiunque vada in Iran e capisce che c'è una fortissima disillusione e non solo fra diciamo il ceto sociale che di solito frequentano gli europei, quello che in Iran si chiamano i Niavari, cioè gli abitanti di Niavoran che è la zona nord di Tehran, la zona dei Reiki, è molto più diffusa. Ecco, non solo per il Niavaran, la retorica del regime, la retorica del volo è una retorica molto vuota. È uno dei pilastri, ma ne sono rimasti pochi alla Repubblica Islamica, è rimasto l'obbligo del velo alle donne, il no a Israele, il divieto di mettere la cravatta per gli uomini perché Khomeini odiava i cravatis, l'intossicazione dalla cultura occidentale. In persiano c'è una parola che è diventata molto famosa negli anni 60 e 70 controllo Shah è la Ravzadeghi, cioè l'intossicazione dell'Occidente, della cultura occidentale, l'idea di una resistenza contro l'Occidente imperialista. Ecco, tutto quelli sono un po' gli epitomi, gli emblemi di una pericolosa cultura occidentale. In realtà sono un po' come le quinte di un teatro, come la scenografia di un teatro perché dietro questi pilastri non c'è rimasto quasi niente. Ed è evidente nelle manifestazioni di fronte a una popolazione che scendeva in piazza a milioni gridando Zanzendeghi, Asadi, cioè donne, vita, libertà. Di fronte a questa insoddisfazione il regime ha reagito in due modi. Da un lato la repressione molto forte. Poteva essere più forte in realtà ma una repressione brutale. E dall'altro aumentando il carico ideologico, retorico attorno alla Repubblica Islamica che è un paradosso perché in realtà è proprio di quella ideologia, di quella retorica che gli iraniani non ne possono più. Ma il nisame, il sistema di potere è intrappolato nel suo stesso discorso. Ed è per questo che sono così ossessionati dalla sono ossessionati da mantenere questi 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 simboli. E proprio perché si è creato un gap enorme fra la retorica e la narrativa del regime e la e la società iraniana che è una società per chiunque la conosca e la frequente è una società molto matura. Ecco, non voglio sembrare l'europeo che dà le patenti di maturità alle società civili ma è assolutamente evidente che la società iraniana è una società profondamente matura soprattutto rispetto alla maggior parte degli altri degli altri paesi medio orientali ed è anche una società dove la donna paradossalmente è più integrata che in molti altri paesi le donne iraniane rappresentano la maggioranza nelle università sono preparate determinate e questa è una cosa che fa molto paura a un regime che ha fatto della rappresentanza dogmatica della legge religiosa del suo essere patriarcale è uno degli emblemi tutto tutto questo lo si lo si vede bene nel fatto che più si accentua la parte ideologica legata all'islam e più la società reagisce diventando quella che io definisco una società a maggioranza post-islamica non solo le moschee sono vuote o ci va solo chi è obbligato ma ci sono milioni di iraniani anche se il regime tende a nasconderlo che si sono o convertiti segretamente o altre oppure che non si considerano più musulmani e te lo dicono apertamente se uno gira per l'iran vede che tantissimi giovani usano il simbolo del persepolis che è una squadra di calcio una famosa squadra di calcio ma che ha come simbolo anche un simbolo zoroastriano e loro ti dicono noi ci consideriamo zoroastriani perché lo zoroastrismo è la vera religione dell'iran la religione dell'iran prima ovviamente la stragrande maggioranza di questi giovani non sa nulla dello zoroastrismo non è che si è interessata ma è palesemente una reazione alla politicizzazione dell'islam del fatto che l'islam sia diventato una forma o meglio che i religiosi sciiti siano diventati una forma di potere tutte queste tensioni in realtà si sono poi come dire sono state così accentuate da quelle che io considero le tre crisi le tre grandi crisi che ci stanno in iran in questi anni sono tre crisi convergenti che stanno sfidando veramente la struttura del nisam del sistema di potere la prima è la crisi politica in iran per molti per molti anni il sistema ha permesso una sorta di come dire di dissenso moderato interno al regime interno all'islam stesso e l'ho dimostrato è stato citato prima il presidente riformista Khatami Khatami rappresentava più l'opposizione il capo dell'opposizione che il presidente e capo del governo c'è sempre stata una certa tolleranza con i riformisti moderati con i pragmatici che via via la parte non elettiva del regime che è quella un sistema duale in cui c'è una parte elettiva e una parte non elettiva non elettiva la parte non elettiva del regime che è quella che ha il vero potere ha via via espulso marginalizzato questo dissenso moderato queste visioni alternative moderate di riforma interna al sistema e questo è un problema perché oggi con Raisi che è va detto un presidente abbastanza terribile è molto poco capace il Nisam ha espulso ogni possibile alternativa dentro il sistema ma facendo così l'ha buttata al di fuori rendendola più non voglio dire più aggressiva ma di certo più radicale non c'è più un'espressione di diversità dentro Nisam e questo è un problema la seconda convergente crisi convergente è quella economica la crisi economica finanziaria è devastante ormai da anni e colpisce sia la la classe non solo le fasce più poveri ma soprattutto colpisce la la classe la classe media che era una classe benestante tradizionalmente benestante in Iran e questo è il risultato di varie cose un'economia gestita malissima un'economia strutturalmente disfunzionale un'economia profondamente corrotta ci sono poi le sanzioni le sanzioni colpiscono molto duro anche se in modo bizzarro noi sappiamo che le le sanzioni hanno la la simpatica tendenza di colpire duro gli obiettivi sbagliati cioè colpiscono duro le popolazioni ma non colpiscono in realtà molto il regime la parte più oscura del regime Pasdarani il Muqabarat cioè i servizi di sicurezza stanno facendo milioni o miliardi grazie ai meccanismi di evasione delle sanzioni economiche e in più oltre a tutto ciò ci c'è anche la quantità enorme di risorse che il regime usa o spreca lascio decidere a voi per il programma nucleare per la proiezione geopolitica regionale che ha dei costi fortissimi direi quasi insostenibili ormai per la Repubblica Islamica e questo ci porta alla terza crisi che è una crisi geopolitica l'Iran la Repubblica Islamica ha vinto in Iraq anche grazie ai terrificanti errori fatti dagli Stati Uniti in generale dall'Occidente dalle monarchie arabe e sunnite del Golfo ha vinto in Siria all'Assad doveva andarsene invece grazie a russi iraniani è rimasto in Libano una grande influenza con Hezbollah ha bloccato il regno dell'Arabia Saudita che era entrato nello Yemen ed era convinto di eliminare gli Uti in due settimane ed ha sette anni che è impelagato in una guerra che non riesce a vincere ecco quindi l'Iran ha vinto geopoliticamente ma la domanda sarebbe ok and then what va bene e poi che cosa se ne fa di questa vittoria perché la verità è che i costi geopolitici e economici sono fortissimi l'Iran è overstretched è iperesteso l'Iran fatica a tenere questa sovraesposizione ma soprattutto la strategia iraniana era una strategia che quella ideata da grande martire generale Soleimani ucciso da Presidente Trump è una strategia di grande successo ma una strategia confrontazionale cioè ha successo quando devi combattere un nemico in una proxy war ma il costo che paga la popolazione locale è molto alto e questi possono pagarlo in situazioni di emergenza ma poi aumenta un risentimento antirrano iraniano io sto lavorando in questi ultimi anni nella zona di Bassora che è una zona sciita considerata vicinissima all'Iran ecco è già successo più una volta che la popolazione abbia bruciato il consolato iraniano e c'è un risentimento contro l'Iran che cresce tantissimo insomma tutte queste crisi e la crescente opposizione dove ci portano dove stanno portando l'Iran questa è una risposta a cui è difficile rispondere i professori sono pagati per sottolineare il problema ma non per trovare soluzioni di certo il sistema il Nisam di oggi è in trasformazione sta diventando più rigido autocratico anche violento rispetto a un certo passato non c'è ancora un'opposizione radicale al sistema qualcuno ha fatto paragoni con il 78 o 79 che a me non piacciono perché nel 78 o 79 c'era un'opposizione che soffiava sul fuoco e voleva lo scontro aveva bisogno dei morti nelle strade la leadership oggi come riformisti così sono leadership molto moderate che invitano la prudenza il regime è più rigido e quindi può anche apparire più forte ma noi sappiamo la storia ce l'ha mostrato molte volte che un regime rigido ha pochissima capacità di resistere agli scuotimenti è forse anche più vulnerabile quando si stacca completamente dalla realtà non credo che l'Iran sia a questo punto ma per certo l'Iran è in trasformazione o diventerà un regime molto meno islamico ma molto molto più dominato dai pazdaran dalle forze paramilitari che sono che hanno sempre dimostrato di di non aver problemi a sparare sulla loro popolazione oppure nel lungo termine rischia molto per certo il distacco dalla società e soprattutto il distacco dall'elemento femminile è molto forte perché da un lato il regime ha permesso una fortissima scolarizzazione e soprattutto una scolarizzazione femminile entrare nell'università iraniana non è facile c'è un concorso e spesso le ragazze sono più brave e spesso le ragazze lavorano hanno una indipendenza hanno anche un'abitudine a vivere in modo più liberale e non solo la classe alta il regime è questo però non lo permette le pone un limite politico le pone un limite sociale le pone anche un limite quotidiano nella vessazione come dire stupida nei confronti delle donne e delle ragazze come sei vestita se tieni per mano il tuo fidanzato nei parchi cosa che fanno semplice tutto questo ci sono stati anni di una maggiore tolleranza questi sono anni di una minore tolleranza ma è una come dire una vessazione quotidiana che è sempre meno sopportata e con cui il regime credo dovrà iniziare a fare a fare i conti grazie grazie mille professor Redelli per questo intervento che ha sottolineato veramente farò un'osservazione brevissima quello che mi sembra un paradosso cioè il paradosso di un regime che è un regime a sfondo religioso che nel corso del tempo quasi inconsapevolmente si è costruito la fossa da solo cioè ha costruito intorno a sé una società che è tendente alla secolarizzazione se non al ritorno a pratiche religiose a forme di religiosità antiche come il caso insomma abbastanza singolare di questo zoroastrismo che sembra riemergere dalle nebbie di una storia che sembrava ormai alle spalle dell'Iran quindi grazie mille per questo intervento che tra l'altro ha messo in luce proprio questa multidimensionalità della crisi che sta attraversando il regime e che non sappiamo poi diciamo quale sbocco avrà adesso passiamo al secondo relatore che è il professor Christian Funke il quale insegna all'istituto di scienze religiose dell'università di Heidelberg è un esperto di studi islamici ha recentemente pubblicato nel 2017 un libro diciamo la cui traduzione in italiano suona più o meno così Martiri sulle banconote estetica politica e rappresentanza sciita in Iran ha anche collaborato con il governo tedesco come consigliere per quanto riguardava la politica estera ai tempi credo di Angela Merkel sempre sulle questioni riguardanti quelle aree del Medio Oriente e quindi credo che lui sia una persona più che indicata per ripercorrere un po' le principali tappe di questi movimenti di protesta e per evidenziare anche quali sono le caratteristiche le similitudini o le eventuali differenze rispetto al movimento di protesta che stiamo osservando adesso prego grazie 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 a tutti. Aber dazu können wir vielleicht später noch ein paar weitere Worte finden. Die revolutionäre Bewegung in Iran Auslöser war, dass am 16. Dezember die 22-jährige Gina Mahsa-Armini durch die Sittenpolizei festgenommen wurde, weil ihr Kopftuch nicht den islamischen Kleidungsvorschriften entsprochen haben soll. Und sie ist dann in Polizeigewahrsam betötet worden. Ich komme darauf später noch zurück, möchte aber zunächst einen kleinen geschichtlichen Überblick geben, um auch die Protestwelle von Etappen, von der mein Vorredner ja auch schon gesprochen hatte, vielleicht noch kurz etwas weiter zu systematisieren. Iran hat im 20. Jahrhundert, wie viele, viele andere Staaten, Phasen der rasanten Modernisierung unterlaufen, die zusammengefallen sind mit der Entdeckung von Erdöl und Erdgasvorkommen, die im wirtschaftlichen System Irans bis heute eine maßgebliche und zentrale Rolle spielen. Mit dieser rasanten Modernisierung und wirtschaftlichen Entwicklung trat jedoch die Achillesferse dieser Modernisierungsdiktatur des Schahs immer stärker hervor. Nämlich eine neue Mittelschicht strebte nach politischer Teilhabe. Das lässt sich in einer Anekdote recht gut veranschaulichen. Der Schah hat bei Studentenprotesten in den 60er Jahren mit seinem Finanzminister gesprochen und war verblüfft. Er fragte sich, warum protestieren denn diese Studenten gegen mich? Ich habe ihnen doch alles gegeben, was sie haben wollten. Sie haben Rechte, sie können studieren, es geht ihnen wirtschaftlich gut. Und daraufhin soll der Finanzminister Samy, glaube ich, geantwortet haben, Majestät, die Protestierenden sind jedoch der Meinung, dass das, was Majestät ihnen gegeben hat, ihre unveräußerlichen Rechte sind. Das heißt also, eine gewisse Disparität zwischen der Idee, ein nicht gewählter Führer modernisiert ein Land und eben universellen Rechten. Die Revolution, die dann später als islamische Revolution bekannt wurde, basierte also zunächst auf dem Widerstand gegen die Einschränkung von Freiheit und forderte breitere politische Partizipation. Sie war von Beginn an stark durch islamische Muster dominiert. Ich meine damit die politische Sprache, Protestformen, die sich sehr stark an islamische Formen angelehnt haben. Aber sie war, auch das hat meine Vorredner schon gesagt, sehr plural geprägt. Wir haben dort linke Kommunisten, Nationalisten, Islamkommunisten und Hardcore-Islamisten, wenn man das so sagen darf. Ayatollah Khomeini, der seit den 1960er Jahren im Exil lebte, wurde von vielen, die an der Revolution als Revolutionäre beteiligt waren, als so eine Art iranischer Gandhi gesehen, der eine Symbol, eine Galleonsfigur bilden würde und dann nach dem Sieg der Revolution bald in seine Gelehrtenstube zurückkehren würde. Als dies nicht der Fall war, kam es bereits zur ersten Phase des Widerstandes, die zusammenfällt mit einer Konsolidierung der Macht durch die neue Islamische Republik. Als die staatliche Ordnung der Schadzeit zusammenbricht, rangen die verschiedenen revolutionären Kräfte zunächst um Macht, wurden nach und nach von Khomeini und seinen Anhängern ausgeschaltet, deren Herrschaftskonzeption auf einer Neuinterpretation der Rolle der schiitischen Rechtsgelehrten basierte, den Khomeini die staatliche Herrschaft oder die Oberherrschaft, eine Kontrolle der Herrschaft zugedachte. Mit dem Angriff des irakischen Diktators Saddam Hussein auf Iran im Jahre 1980 begann ein achtjähriger, auch häufig vergessener Krieg, der einen gewissen Burgfrieden in Iran sicherte und auch dem neuen Staat half sich, sowohl ideologisch als auch politisch strukturell zu konsolidieren. In die Zeit des Iran-Irak-Krieges fallen beispielsweise Säuberungen des Staatsapparates, der Armee und der Universitäten und auch die erste große Auswanderungswelle, die schon während der Revolution beginnt. Die neue Verfassung der Islamischen Republik baute auf Druck der verschiedenen revolutionären Kräfte jedoch auch lose, in Anführungszeichen demokratische Elemente ein, wie etwa Parlaments- und Präsidentschaftswahlen, denen autokratische Elemente gegenüberstehen. Wer zum Beispiel für einen Sitz im Parlament kandidieren möchte, muss zunächst vom Wächterrat, der sich aus nicht gewählten Geistlichen zusammensetzt, überprüft werden. Es gibt Vetorechte, es ist also nicht so, dass man sagt, es ist dort eine halb funktionierende Demokratie, die so etwas beeinträchtigt wird. Die Beeinträchtigung ist die Regel. Die Demokratie dient der Aushandlung von Elitenkompromissen, um auch die Ressourcen, die durch die Erdöl- und Erdgaswirtschaft entstehen, ab und zu mal neu zu verteilen. Also es ist sozusagen ein herrschaftsstabilisierendes System. Das Ganze wird dann etwas ausgereizt mit dem bereits erwähnten Ratami, ein Reformer, der dieses Nebeneinander von autokratischen und demokratischen Elementen ein erstes Mal auf eine echte Probe stellte. Und die Hoffnung lag damals auf Ratami, dass er beispielsweise durch eine Liberalisierung von Presse und Wirtschaft die Islamische Republik modernisieren und stabilisieren könnte im Endeffekt. Das Ziel der Reformer war nicht die Einführung einer neuen demokratischen Ordnung. Das Ziel der Reformer war die Erfüllung des revolutionären Gedankens. Es führte zunächst zu einer Öffnung des politischen Diskurses, der jedoch dir auch rasch von politischen Morden und einem harten Durchgreifen von nicht gewählten Institutionen und Interessengruppen beendet wurde und eingeholt wurde. Daraufhin gab es Proteste, die von Studenten, die in den vielen Zeitungen beispielsweise in dieser Zeit aktiv waren, geprägt waren, die rasch niedergeschlagen wurden. Und damit wurde in gewisser Weise eine neue Formel für den Machterhalt gefunden. Durch die innere Opposition von Reformern und Nicht-Reformern, Hardlinern oder wie auch immer man sie bezeichnen möchte, deren gemeinsames Ziel der Erhalt der Ordnung der Islamischen Republik ist, fanden sich viele Iranerinnen und Iraner zwischen der Wahl, das geringste Übel zu wählen, immer wieder neu. Also es wurde keine generelle Frage gestellt und auch die Hoffnung, dass die Islamische Republik ihr Versprechen halten könnte, war noch vorhanden. In der nächsten Etappe der grünen Bewegung von 2009 avancierte eigentlich ein Nicht-Reformer zum neuen Hoffnungskandidaten der Reformer, dessen Anhänger aufgrund der Kampagnenfarbe als grüne Bewegung bekannt wurden. Nach massivem Wahlbetrug wurde der amtierende Präsident, der sehr umstritten war, Ahmadinejad, wiedergewählt, woraufhin die größten Massendemonstrationen seit der Revolution mit Millionen von Teilnehmern folgten. Dabei ist auch festzuhalten, dass es sich dabei um einen internen Wettstreit handelte. Es ging nicht, zumindest am Anfang, nicht darum, die Systemfrage zu stellen, sondern es ging um die Frage, wer wird Präsident innerhalb des bestehenden Systems. Hier kann man schon relativ schnell das Drehbuch erkennen, wie man mit Protesten umgeht. Die Revolutionäre haben selbst eine Revolution erfolgreich veranstaltet und wissen damit sehr genau, dass sie mit massiver Gewalt, die keine Rücksicht auf Leib und Leben nimmt, zu reagieren. Also wir hatten auch im Jahr 2009 Verhaftungen, Vergewaltigungen, Morde, Einschüchterungen und auch wieder eine Fluchtwelle. Die Proteste von 2019, 2020 wurden auch bereits erwähnt. Das ist die vierte Welle, die auf die Erhöhung der Benzinpreise zurückging. Und deswegen, da merkte man recht schnell, dass sich eher wirtschaftlich benachteiligte Gruppen auf die Straße getraut haben und es innerhalb des intellektuellen, studentischen und politischen der Opposition so eine gewisse Zurückhaltung gab, ob man sich mit diesen Protesten gemein machen möchte. Was ist nun passiert? Ich hatte Gina Mahsa-Armini bereits erwähnt. Warum hat sie überhaupt zwei Vornamen? Der eine Vorname, Mahsa, ist ihr offizieller Vorname, der im iranischen Pass steht. Gina ist ihr Name, den sie in ihrer eigenen Familie hatte. Da sie diesen kurdischen Namen nicht offiziell in ihren Pass eintragen lassen durfte, hat sie also einen offiziellen Namen, der sanktioniert ist, bekommen. Sie war laut ihrem Cousin nicht besonders politisch interessiert. Sie war eine im Jahr 1999 geborene Studentin, die gleich dreifach diskriminiert wurde in der Islamischen Republik Iran. Sie war eine Frau, sie war eine Kurdin und sie war Sunnitin, gehörte also nicht der schiitischen staatstragenden Religion in Iran an. Und als bei einem Familienausflug in Teheran wurde sie verhaftet, weil ihr Kopftuch nicht richtig gesessen haben soll und kam in Polizeigewahrsam ums Leben. Warum spielt der Hijab, warum spielen die islamischen Kleidungsvorschriften im politischen Diskurs und in Iran eine so wichtige Rolle? Im bereits angesprochenen Iran-Irak-Krieg fand, wie gesagt, eine Islamisierung auch des Militärs statt. Die Landesverteidigung wurde als heilige Verteidigung stilisiert, als Abwehrkampf gegen ein gottloses Regime. Und nach dem Krieg kehrten zahlreiche Veteranen, die in den freiwilligen Verbänden oder in der Revolutionsgarde gekämpft hatten, ihr Augenmerk nach innen. Wenn das Ziel die Herstellung einer gottesfürchtigen Ordnung war, das sozusagen als Interpretation der Revolution, warum stockte es dann? Warum trat die versprochene islamische Utopie nicht ein? Der Hauptschuldige war, neben den USA und Israel, der Feind im Inneren. Das heißt, die Verwahrlosten, Dekadenten, die Verwestlichten, die sich sozusagen gegen die Ziele der Revolution stellten. Sittenpolizei, die islamische Kleidungsvorschriften teils mit massiver Gewalt, mit Einschüchterung durchsetzt, speist ihre Legitimation aus diesem verhältnismäßig kleinem, aber dennoch substanziellem Teil der iranischen Gesellschaft, die eng mit den ideologischen Leitlinien der Islamischen Republik verknüpft ist. Es ist, es gibt im schiitischen Islam, gibt es den Grundsatz, dass gute gebieten und das schlechte verbieten. Was sozusagen die Aufforderung ist, einzugreifen. Das heißt, wenn wir heute nicht nur die Sittenpolizei, heute auf Twitter sah man ein Bild von drei oder zwei Herren, die sich in Kerman oder Kerman-Schar an den Straßenrand gestellt haben und ihnen die Autokennzeichen von Frauen aufschreiben, die nicht mit dem Kopftuch im Auto unterwegs sind, um sie dann an die Polizei zu melden. Das heißt also, man kann nicht sagen, dass Iran eine komplett post-islamische Gesellschaft ist. Islam, der Iran ist eine post-islamische Gesellschaft, der eine islamistische Gruppe von 10 Prozent, 20 Prozent, es gibt also diesen gesellschaftlichen Current, der eine gewisse große Rolle spielt und das ist sozusagen die Basis des Regimes. Und wenn wir das mal mit dem kommunistischen Polen vergleichen, da hatten sie vielleicht zwei Prozent, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, die Parteimitglieder waren. Wie viele Leute brauchen sie, um einen Staat zu kontrollieren? Und wenn sie dann in Iran von 10, 20 Prozent ausgehen, das ist weitaus mehr als in der Sowjetunion auch oder im kommunistischen Polen oder in anderen totalitären, diktatorischen Staaten. Das heißt also, diese Gruppe ist da. Und das ist ein riesiges Problem für alle Menschen, die an universelle Werte wie Freiheit und Selbstbestimmung glauben. Aber nicht nur auf der Straße, sondern auch in den Schulen, in den Universitäten, im Restaurant, im Café, im gesamten öffentlichen Leben ist die Befolgung der islamischen Kleidungsvorschriften reguliert. Das trifft die urbane Oberschicht in der Regel weniger hart, die eine Art Gegenöffentlichkeit schaffen kann, teils privat, teils öffentlich geduldet. Sie trifft aber die Mehrheit, die trifft die Mittelschicht, sie trifft Menschen, die arbeiten müssen und sich am Arbeitsplatz an Kleidungsvorschriften halten müssen. Wenn staatlichen Betrieben oder Behörden Karriere machen möchte oder einfach nur arbeiten will, muss darüber hinaus einen bestimmten Habitus, eine bestimmte Staatstreue, eine bestimmte Treue zu bestimmten Werten pflegen. Und damit sind auch die Bedingungen für Vetternwirtschaft oder iranisch Partibor sie gegeben, in denen nicht nur Kompetenz und Leistung wirtschaftlich und politisch belohnt werden, sondern nur die Loyalität, Linientreue, Kontakte. Und durch die Erdölwirtschaft schafft es der Staat zu belohnen. Das gilt auf der breiten Basis etwa für Nahrungsmittel und Stromsubventionen, durch die privilegierte Vergabe von Studienplätzen, Stipendien bis hin zu hochnotierten Leitungspositionen in Stiftungen und Parlamentssitzen. Das gilt Dinge an, die im gesellschaftlichen Diskurs seit einem Jahrzehnt und länger relevant sind. Eine komplette ökologische Katastrophe, eine Missachtung von afghanischen Migranten, die entrechtet ausgenutzt werden von einer absoluten Armut von weiten Teilen der Gesellschaft, während die Regime nahe, die Nutznießer des Staates sozusagen im Luxus leben. Sie haben Bilder von den Tochtern von Rechtsgelehrten, die als Unterwäschemodels, als Influencer auf Instagram und anderswo sozusagen im Luxus schwelgen. Was aber auch nicht vergessen werden soll, und ich komme gleich zum Ende, ist, und das ist im Ausland auf wenig Beachtung gestoßen, dass die Proteste eben auch in den Provinzen, in denen ethnische Minderheiten leben, eine große Resonanz finden. Wie gesagt, Gina Mahsa Amini war Frau, Kurdin und Sunnitin, aber auch in Baluchistan hat beispielsweise der sunnitische geistliche Sheikh Abdul Hamid wiederholt für die Gleichberechtigung von Mann und Frau und die Gleichberechtigung aller Religionen, sogar der Baha'i, die staatlich in Iran besonders verfolgt werden, geworben. Meist verbindet sich die Forderung in den Provinzen mit dem Wunsch nach einer Beteiligung mit einem Zugang zum Sicherheitsapparat, mit einem Zugang in die Polizeien, in die Verwaltungen, weil sie in den Provinzen in Baluchistan die meisten Todesopfer zu beklagen hatten. Warum? Weil die Polizisten, die Sicherheitskräfte alle sunnitische Perser sind. Sie haben dort keine sunnitischen Balutschen oder sunnitischen Kurden. Das heißt, da haben wir eine Protestform, die über dieses Universelle eigentlich hinausgeht, die aber auch sehr, sehr wichtig und auch sehr quantitativ nicht unbeachtlich ist. Noch ein Wort zum Ausland. Auch im Ausland, in der iranischen Diaspora, haben die Proteste großen Widerhall gefunden. Bei vorherigen Protesten wurde die Diaspora schnell ins Abseits gestellt. Das hängt einerseits mit der internen Zersplitterung zusammen, wo kurdische, monarchische und linke Gruppen gegeneinander gearbeitet haben und nicht gemeinsam gegen die Islamische Republik. Aber auch mit dem Narrativ, eigentlich dürfen nur Iraner, die in Iran selbst sind, über iranische Themen, über iranische Politik sprechen. Das ist auch ein Narrativ, das von der Islamischen Republik immer wieder genutzt wird, um ausländische Oppositionelle als Agenten und so weiter zu verunglimpfen. Das ist besonders perfide, weil viele von diesen im Exil lebenden Iranern politische Flüchtlinge sind, die ihr Land verlassen mussten wegen der Islamischen Republik, denen dann noch die Islamische Republik im Exil ihre Stimme nehmen möchte. Und seit dem Tod von Mahsa Amini ist das weniger der Fall. Bei großen Demonstrationen in Berlin, in Straßburg, in Brüssel haben die verschiedenen Gruppen gemeinsam größtenteils demonstriert und auch die gemeinsamen Presseerklärungen der iranischen Frauenrechtlerin Masih Ali Nejad mit dem Kronprinzen Reza Pahlavi und Hamid Esmailion, dem ehemaligen Präsidenten und der hinterbliebenen Organisation, der Opfer des Fluges PS 752, das nach dem Tod von Rassem Soleimani von der iranischen Luftabwehr am Flughafen Teheran mit über 200 Toten abgeschossen wurde, zeigt, dass sich auch in der iranischen Opposition etwas tut. Was sind die Unterschiede zu vorherigen revolutionären oder Protestbewegungen? Die Bewegung will ein Ende der Islamischen Republik. Sie will keine Reformen. La seconda parte la possiamo lasciare per un intervento successivo. E mi sembra che comunque lei abbia più che chiaramente illustrato quella che è stata anche l'incapacità del regime di riuscire a cooptare le elite nel corso del tempo attraverso i diversi strumenti che aveva a disposizione, importantissimi, che erano quelli del controllo di alcune risorse economiche che davano la possibilità di mettere in piedi queste forme di nepotismo che erano però anche delle forme di, diciamo così, delle possibilità di rafforzamento del regime attraverso la creazione di legami e di interessi reciproci con alcune fette importanti della società iraniana. Allora, non so se ci sono domande da parte degli studenti che io ho qui in aula o anche degli studenti degli altri Atenei, mi farebbe piacere se qualcuno se la sentisse di intervenire, se avesse qualche curiosità da soddisfare. Ecco, io ho qua uno studente. Vuole venire qua a fare la domanda? No? Non se la sente? Va bene, allora la riferisco io. No, venga qua, venga qua. Venga, venga. Su, non abbia timore tanto. Professore, la dica andai in verità. No, dica la dica direttamente. Buonasera a tutti, sono Sebastiano Calderon, uno studente dell'Università Core. Si avvicini che così la stupendo. Io volevo fare una domanda al professor Radelli, nella fattispecie quando si riferiva al fatto che molti giovani iraniani si rifacessero alla religione dello zoroastrismo. Ma professore, questo può essere perché il profeta zoroastro nel trasmettere il messaggio di Masda, quindi diciamo la divinità principale di questa religione sosteneva che tutti fossero uguali e a conferma di ciò durante i regni di Serse, Ciro e Artaserse, Dario, i più grandi sovrani persiani, comunque quantomeno dal punto di vista dell'uguaglianza formale tutti i cittadini persiani erano più o meno uguali? È una bella domanda, complessa. Va bene, grazie. Io colgo l'occasione per estendere un po' la domanda, coinvolgendo anche il professor Funche, cioè quale secondo voi è il peso che i giovani, che sono diciamo tradizionalmente degli elementi di novità, i giovani in generale, non soltanto le giovani ragazze, esercitano in questo momento, in questi, qual è il ruolo e qual è il peso che hanno in questi movimenti di protesta. E però, insomma, ci sono appunto due domande in fondo, in una. Prego. Sì, rispondo velocemente. Allora, no, vorrei disilludere il bravissimo studente che conosce molto bene questa bella religione, lo zoroastrismo. La mia impressione, in Iran c'è anche una piccolissima minoranza, la mia impressione è che quei giovani che quando ti parlano, quando ti dicono ma noi ci sentiamo più zoroastriani e che non sappiano praticamente nulla della religione. È una forma, mi sembra, di protesta e di distacco dall'Islam. Io mi ricordo a Qom, la città santa, parlando con un ayatollah, lui mi disse, mentre parlavano, mi disse Ma Riccardo, hai capito che gli iraniani sono la popolazione il meno religiosa del mondo? Era una provocazione, perché in Iran l'Islam ha sempre avuto un ruolo molto forte. Io concordo con il collega Funke, c'è uno zoccolo duro di gente che non solo crede al regime, ma crede profondamente ai dettami sciaraitici della sciaria, dell'Islam, ma è una minoranza. Nella maggior parte della popolazione c'è un grande fastidio, proprio perché l'Islam viene utilizzato come ideologia politica. Io credo che la maggior parte di questi, anzi per eccesso, la mia impressione è che soprattutto nei giovani ci sia, come dire, un senso di frustrazione, proprio per questa vessazione spesso quotidiana. Il problema dell'Iran è che molto spesso tu non sai se vieni punito o no. Ci sono stati anni, io mi ricordo, in cui passeggiavi per Teheran e le ragazze che portavano il velo molto all'indietro si aggiustavano il velo, togliendoselo proprio di fronte ai pasdaran, ai bassici, alle guardie, proprio per sfida, no? E andava bene. Ci sono momenti in cui c'è stata una forte repressione. E' una complessità quella dell'Iran che noi spesso interpretiamo a livello politico e giusto, ma c'è anche trasversalmente, l'ha ricordato il mio collega, una dimensione socio-economica, delle profonde spaccature socio-economiche fra diversità. Una delle ultime volte in cui sono stato in un ristorante a Teheran, invitato da degli amici, era uno dei ristoranti, e si era nel periodo sotto sanzioni, era un ristorante per ricchi. E nei parcheggio c'erano Lamborghini, c'erano Ferrari, i prezzi del ristorante erano assurdi ai miei occhi. E lì dentro ci stava non solo la Procheggia, ma ci stavano anche i figli dell'elite dei pasdarani, i figli del Nisam, di quelli che col sistema ci guadagnano, che erano molto misti. E poi invece c'è tutta una dimensione, anche nelle province, penso al Baluchistan, io ho lavorato moltissimo in Baluchistan, dove c'è una vita più tradizionale, ma lì sono sunniti, in cui c'è un fastidio fortissimo verso l'esibizione dello sciismo, come cosa è stato. Quindi non so se ho risposto alla tua domanda, allo studente direi di no, nella tua volta c'è una complessità che rende difficile leggere in modo lineare. Prof. Fuque, vuole aggiungere qualche cosa? Ja, grazie. Ich glaube, ich stimme auch vor allem zu, ja, also man hat sehr wenig Ahnung vom Zoroastrismus, von der Religion. Was man aber tut, ist, man verbindet den Zoroastrismus stark mit etwas Iranischem. Das heißt also auch der Nationalismus oder auch ein Nationalgefühl wird sehr, sehr stark über etwas Vorislamisches, etwas, was nicht arabisch ist. Das ist teilweise auch durchaus rassistisch mitgeprägt. Aber wenn Sie zum Beispiel selbst so eine umstrittene Person wie Ahmadinejad haben, der sich vor das Grab mal von Kyros dem Großen stellt und dort ein Bild macht, dann zeigt das, dass selbst diejenigen, die in ihren Träumen den Mahdi gesehen haben, durchaus auch mit dieser nationalen iranischen vorislamischen Größe spielen können. Das heißt, ja, es gibt ein Faszinosum, es gibt ein Spiel, es gibt auch den Wunsch nach einer Provokation, aber auch natürlich eine große Sinnsuche. Die Frage ist, wo kommen diese Angebote her? Und da würde ich die zweite Frage mit beantworten wollen, welche Rolle spielt die Jugend? Ich glaube, die Jugend spielt eine Rolle, die sich gar nicht so sehr, also ich weiß nicht, welche Rolle sie spielt, aber ich weiß, wie sie, es geht um universelle Werte. Das heißt, es ist nicht die Prägung durch den Staat, die das Denken dominiert, sondern das sind, die iranische Jugend ist vernetzt. Sie verfügt über sämtliche Informationen, über die wir auch verfügen. Die Träume unterscheiden sich nicht so großartig. Und um das Bild vielleicht noch etwas zu verkomplizieren, es ist nicht nur die Islamische Republik, die die Jugend in Iran unterdrückt. Das sind auch die Väter und Mütter. Denn auch, man kann vielleicht auch sagen, genauso wenig, wie man Ahnung vom Zoroastrismus hat, gilt das vielleicht auch für manche Auslegungsarten des Islam. Aber sie haben tatsächlich sehr patriarchalische Ideen, Strukturen und die Rolle der Frau und die Position, die sie in der Familie hat, ist teilweise noch sehr traditionell geprägt. Also es ist nicht nur ein Aufbegehren gegen den Staat, sondern auch ein Aufbegehren gegen Familienstrukturen, die vielleicht in Italien und in Deutschland in den 1950ern noch relevant waren. Sì, questa pure è un'osservazione molto interessante. Quindi è una protesta che investe anche delle forme, diciamo, di organizzazione sociale, di struttura sociale, che vengono ormai, non so, forse in qualche modo anche associate ad un tipo di regime che ne ha fatto anche in questo caso degli strumenti di consolidamento del proprio potere. E che però in questo caso più che mai sono sfidate soprattutto dai nuovi orientamenti che maturano nelle nuove generazioni, nei giovani, perché non credo che siano le persone di mezza età o gli anziani a mettere in discussione il sistema familiare dell'Iran attuale o di una gran parte dell'Iran attuale, ma i giovani, quindi ancora una volta forse i giovani sono, almeno in questo caso, un fattore, un motore di cambiamento. Dunque, io, vediamo un po', forse c'è una domanda. Sì, sì, intanto io leggo la domanda. Daniele, intervieni pure. No, allora, la mia domanda è abbastanza semplice, diciamo. Vorrei chiedere a entrambi i due relatori che hanno fatto degli interventi molto, molto interessanti e li ringrazio molto. Se ci potessero dire qualcosa di più, qual è, diciamo, qualcosa di più sul fatto che queste proteste sono nate dalle ragazze, dalle donne iraniane, diciamo. E l'aspetto che mi sembra abbastanza interessante è che, a dispetto di questo sistema patriarcale, che come ci è stato detto prima è ancora abbastanza ben presente in Iran, da quanto ho letto e da quanto si sente dire, insomma, queste proteste in realtà poi sono divenute intergenerazionali, sono divenute, diciamo, hanno raggruppato varie etnie, non c'è una distinzione geografica tra città e campagna molto netta rispetto a quanto è accaduto prima. Cioè è una protesta che è riuscita, diciamo, che è partita dalle ragazze, ma che a dispetto di questo sistema patriarcale è riuscita poi a diffondersi al di là, diciamo, della componente femminile. Ecco, questo mi sembra un tema abbastanza interessante forse, vorrei sentire, e che diciamo distingue forse questa protesta rispetto alle proteste precedenti, alle contestazioni precedenti, che sono state ricordate anche prima da Daniele Caviglia. Ecco, mi piacerebbe sentire qualcosa da questo punto di vista da entrambi i relatori. Allora aggiungo anche un'altra domanda, così avete tutti e due la possibilità di rispondere a entrambe le domande, che ci è arrivata da uno studente, ci è arrivata via chat, da Emanuele Bonanno, il quale ci chiede, vi chiede, se ritenete che, diciamo, almeno una parte dell'opposizione in esilio possa avere un ruolo. Non so quale possa essere ancora il grado di radicamento di questo tipo di opposizione rispetto alla società aereaniana odierna. Certamente ha fatto abbastanza scalpore, colpisce un po' quel gesto del, non so se è un figlio, comunque un membro della famiglia Palevi, che è andato in visita in Israele pochi giorni fa, proprio a significare una svolta, almeno per quello che lo riguarda e per quello che vorrebbe rappresentare, dell'atteggiamento nei confronti dello Stato di Israele. Ecco, queste sono le due domande, quindi quelle del collega Pasquinucci e questa domanda che ci è giunta via chat. Prego. Facciamo parlare prima il collega tedesco per l'inversione dei ruoli direi. D'accordo, benissimo. Dann fange ich mal von hinten an, die Rolle der Opposition im Exil. Ich glaube schon, dass sie eine Rolle spielen kann. Man sollte sie nicht überschätzen, aber man sollte sie auch nicht unterschätzen. Wenn wir die iranische Revolution von 1978-79 in uns noch mal in Erinnerung rufen, da hat die Exil-Opposition auch eine sehr große Rolle gespielt. Und sie kann heute mehr denn je ein Echo sein für das, was in Iran passiert. Wir sehen hier in Deutschland beispielsweise, dass politische Patenschaften auf Druck der iranischen Exil-Opposition zustande gekommen sind mit politischen Gefangenen. Dass sie dafür sorgen, dass das Thema nicht in Vergessenheit gerät. Dass sie aufklären, ob eine Person wie Reza Pahlavi, der Sohn des letzten Schahs, jetzt mit wehenden Fahnen im Niavaran-Palast wieder einziehen wird, ist damit natürlich nicht entschieden. Und ich wäre da auch eher skeptisch. Aber man tut der Protestbewegung, und es war ein Wunsch der iranischen Jugendlichen, die sich innerhalb von Chatgruppen und anderweitig vernetzt haben, dass sie gesagt haben, liebe Exil-Opposition, vereinigt euch, seid unsere Stimme. Das heißt, es gibt eine Verbindung zwischen den Protesten in Iran und den Protesten außerhalb von Iran. Und man tut der iranischen Bewegung kein Gefallen, wenn man das Argument der Islamischen Republik, dass man außerhalb von Iran ja eigentlich gar nicht sagen darf, dass man keine Ahnung hat. Nein, die familiären Verbindungen bestehen nach wie vor. Es gibt eine sehr, sehr gute, die Iraner im Exil sind die, die am besten informiert sind. Und ich glaube, wir sollten zuhören, auch die Politik sollte zuhören. Und der Besuch von Reza Pahlavi in Israel hat auch gezeigt, dass es ein Mittel ist, um Politik zu machen. Also Politik hat im Grunde genommen drei Währungen. Das ist einmal das Symbolische, das ist das Geld und das ist das Recht. Und welche von diesen drei Währungen benutzen wir denn gerade, um die Protestbewegung in Iran zu unterstützen? Was ist das Ziel der europäischen Regierungen? Macht man sich einfach nur zu eigen und sagt, wenn wir warten, bis Khamenei tot ist, weil wir uns vor Instabilität fürchten? Also nehmen wir hin, dass ein Staat, ein mörderischer Staat Kinder und Jugendliche vergiftet, dass er in den Gefängnissen vergewaltigt, um an einem gescheiterten Atomabkommen festzuhalten? Oder sagen wir, nein, unser Ziel ist ein demokratischer, freier Iran? Das ist eine Frage, die ich hier nicht beantworte, aber das ist eine Frage, die man stellen muss. Und eine Frage, die, wenn man sie so beantwortet und sagt, wir sind sehr besorgt und wir müssen vorsichtig agieren, glaube ich, man tut der Zukunft der Iranerinnen und Iraner damit kein Gefallen. Bene, Professor Radelli. Sì, brevemente. Credo anch'io che l'opposizione possa giocare un ruolo all'unidio, ma dipende quale. Personalmente non credo molto nell'opposizione, cioè nella forza dell'ex monarchia. E soprattutto, lo studente citava i Mujahideen al-Khalk, i Mujahideen al-Khalk sono molto screditati in Iran e non solo in Iran. Io penso che sia stato uno dei pochissimi occidentali che è entrato a Camp Liberty, cioè in Iraq, dove erano rifugiati i Mujahideen al-Khalk prima di essere trasferiti in Albania. E sembrava di entrare in una macchina del tempo, gente che era ferma agli anni 70, 60, 70. Quindi Mujahideen al-Khalk non sono la risposta. Anzi, possono essere un pericolo, più li vengono pompati, penso anche dalla destra americana, lo stesso Israele, e più fanno il gioco del regime. Quanto diceva il collega su cosa vogliamo noi all'estero, noi europei, mi sembra che a noi interessi soltanto non avere altri problemi e cercare di chiudere sul nucleare. E quindi un Iran più debole ci fa buon gioco. Non vedo, abbiamo avuto un atteggiamento abbastanza cinico, dovrei dire. Sulla domanda di Daniele Pasquinucci, sulle ragazze, domanda complessa. È evidente, quando si vede per milioni di iraniani, di donne, giovani, ma di uomini, che cantano Zanz and Ghiazadi, gli slogan, e quando vedi le famiglie, quando vedi per le strade i bassigi che picchiano delle ragazze e intervengono altri, degli uomini, a difenderle, questo ti dice che c'è un sostegno molto forte, è un po' trasversale. Poi in certe province c'è più l'odio per il regime, credo, perché le province sunnite sono spesso quelle più tradizionali, più dominate da una visione patriarcale. ma in molte parti del paese si è visto questo grande sostegno e questo dipende proprio dal fatto che la donna in Iran ha un ruolo forte e noi spesso non ce ne accorgiamo, ha un ruolo civile, economico, anche nella vita quotidiana, molto forte. E poi c'è questo blocco forte che il regime impone a livello politico, a livello di vita quotidiana. è una dicotomia schizofrenica che è sempre meno sopportata, non solo dalle donne, ma dalle stesse famiglie, soprattutto dai giovani. Questo lo si avverte con molta forza e il regime non è capace di dare una risposta perché non capisce o non vuole uscire dalla sua visione dialogizzata. Allora, io intanto vi ringrazio per la brevità anche delle vostre risposte. Abbiamo a disposizione pochissimi minuti. Vorrei chiudere con un'ultima domanda che arriva sempre via chat da una studentessa. Ce n'era anche un'altra sul tema dell'occidentalizzazione, però questa è una domanda alla quale secondo me in parte è già stato risposto. L'ultima domanda che vi farei, che vi girerei, è quella che riguarda a vostro avviso quello che è effettivamente il ruolo sotto il profilo lavorativo professionale che le donne iraniane hanno in questo regime. Cioè il conseguimento dei titoli accademici trova poi una corrispondenza in un'adeguata collocazione lavorativa. Sono effettivamente una parte trattata su base paritaria almeno da un punto di vista professionale rispetto agli uomini oppure anche lì soffrono di una subalternità che oggi sicuramente poi vista da questo punto di vista appare arcaica, anche se pure noi qualche passo avanti non più lo dovremmo fare. Prego. Con questa risposta, diciamo, questa è l'ultima domanda, poi dopo chiudiamo. Chi vuole rispondere per primo, fate voi. è l'ultima domanda. Grazie a tutti. 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 La parte della Fondazione Adenauer era molto interessante anche per noi e ci rivediamo il 11 maggio. Grazie e buona serata.